A una tripla alimentazione elettrica, diesel e a batterie, stiamo parlando del Blues, il primo treno ibrido di Trenitalia. Un treno con un'impronta green ancora più sostenibile per il ridotto impatto ambientale e per la maggiore attenzione sociale, con la possibilità di offrire alle famiglie un'area dedicata ai bambini. Prima tappa al sud, nella città di Reggio Calabria, su lungomare Italo-Falcomatà, per il road show previsto nelle principali piazze italiane per far conoscere a cittadini e istituzioni il nuovo convoio della flotta regionale di Trenitalia, progettato e costruito da Itachi Rail, che si affianca ai treni rock e pop già in consegna da maggio 2019 in tutta Italia. Considerate che l'80% dell'intero parco Trenitalia lo andrà a sostituire entro la fine dell'anno, quindi anche gli ambienti saranno più familiari e più confortevoli per chi appunto deciderà di spostarsi con i treni. Era ovviamente uno dei progetti bandiera del Ministero delle Infrastrutture, il Ministro ha voluto fortemente puntare su questo tipo di innovativi, diciamo, treni all'avanguardia. Ne avevamo bisogno soprattutto alle nostre latitudini e questo, voglio dire, è un piccolo gelino che tra le altre cose è stato realizzato nella nostra grande azienda appunto dell'Itachi.